Buongiorno, oggi vi mostrerò come preparare il pane per pescare in mare. È sufficiente del comunissimo pane in cassetta o bianco integrale. Bagnarlo con un po' d'acqua, un attimo, e strizzarlo bene. Basta un comunissimo panno di cotone, appoggiarlo e tamponare. Così asporteremo l'umidità rimasta. Ecco pronto l'esca per il mare. Grazie.